Amici del Diario Motori, il nostro Paolo Filisetti è Cristiano Chiavegato della Stampa, al sabato sera di Barcellona, come vedete ci siamo presi una birretta, beviamo per dimenticare la giornata della Ferrari? Ma viviamo per dimenticare, diciamo che per renderci la serata più piacevole in attesa di quelle che potranno essere le verifiche di domani, sicuramente ci eravamo un pochettino illusi o meglio c'erano le motivazioni per esserlo, di fatti stamane nella FP3 la Ferrari si era avvicinata molto, il distacco era ridottissimo, poco più di un decimo e questo faceva ben sperare per le qualifiche, le qualifiche invece hanno visto un tonfo, ma più che un tonfo il discorso è che c'è stato un mancato balzo in avanti, mentre tutti, diciamo soprattutto poi le vetture di testa e in questo caso non solo la Mercedes ma anche la Red Bull hanno migliorato tra gli otto decimi e il secondo rispetto a quello che era la prestazione delle prove libere, Ferrari è rimasta ferma sostanzialmente sui tempi delle prove libere e questo ha causato il fatto che alla fine si trova in terza fila. E c'è stato anche un po' di mistero riguardo ai motivi reali, anche i tecnici del Cavalino hanno studiato molto per cercare di capire, tu alla fine che idea ti sei fatto? Ma i misteri sai, il dato macroscopico è che sicuramente le gomme sono uscite dalla classica, quella che definiamo finestra di utilizzo, vale a dire entro il quale c'è una temperatura ideale di utilizzo dei pneumatici e qui è accaduto soprattutto perché comunque c'è stato un innalzamento della temperatura della pista, che però le altre squadre, Mercedes inclusa e non solo, abbiamo detto anche Red Bull hanno ben interpretato, Ferrari in questo momento sta cercando tuttora di capire anche in questi momenti che cosa abbia causato, se un problema di assetto sotto il profilo magari del cambiamento aerodinamico o quantomeno di assetto delle sospensioni, quindi modifica le sospensioni che non sono state poi ottimali, questo magari ce lo confermeranno domani. Cristiano, come hai visto tu la giornata e soprattutto ci possono essere delle speranze di miglioramento per domani in gara? Loro pensano di sì perché alla Ferrari fa sempre meglio la gara delle qualifiche, però non ci crederei molto perché la Red Bull sono molto determinati, molto contenti della macchina, Ricciardo era non felice di più per quello che ha fatto oggi, è stato davanti al compagno di squadra che non è male per lui perché Verstappen è piuttosto invasivo ed è un fenomeno anche e poi onestamente non mi immagino una Ferrari molto competitiva perché ha sempre qualche problema, qualcosa capita sempre, le gomme, fa troppo freddo, fa troppo caldo, non siamo ai livelli che pensavamo che la Ferrari avesse raggiunto. I piloti dicono dall'inizio della stagione che la macchina è molto meglio di quella dell'anno scorso, però siamo ritornati a uno stato che è simile a quello del 2015, quindi non sono ottimista. Vedremo, vedremo come andrà domani, ai nostri amici del Diario Motori naturalmente l'appuntamento è sulle nostre pagine per seguire l'andamento del Gran Premio di Spagna. Grazie, a domani.